Bentornati sul mio canale, in questo video voglio farvi una recensione di un prodotto dedicato alla cura dei capelli dei vostri bambini. Volete dire addio ai nodi con questo spray dalla delicata profumazione a mango? Basta un'applicazione sui capelli bagnati o asciutti e pettinarli facilmente. E vediamo come i capelli dei vostri bambini toglieranno immediatamente i nodi. Questo qui, prima di venderlo alle mie clienti, l'ho prima testato sia su di me che su mia mamma, perché noi abbiamo i capelli lunghi. E sinceramente, siccome che veniva usato sui bambini, ho preferito, prima di consigliarlo alle clienti, di provarlo in prima persona. E sinceramente mi trovo benissimo, io lo acquisto sempre anche per me e per mia mamma e ne siamo rimaste veramente soddisfatte. Sia perché è una bottiglia di 200 ml, quindi è abbastanza grande. Anche la profumazione è molto bella. Dura per parecchio tempo sui capelli, quindi io sono rimasta molto soddisfatta. E poi, anche per quanto riguarda i nodi, vengono torti subito, senza tanta fatica. Ovviamente, se associamo anche un bellissimo pettine, sempre dell'Avon, per quanto riguarda i nodi, che esistono, in catalogo gli sciogli nodi, la cosa viene ancora più migliorata e facilitata. Ma anche con un comune pettine che potete già trovarvi in casa. Il prezzo si aggira intorno ai 3-4 euro, quindi è accessibile a tutti. Di solito mettono anche l'offerta con due bottiglie di questo, oppure uno di questo e uno di shampoo, sempre della stessa linea dedicata ai bambini. Che dire, spero che questo video vi sia stato utile. Lasciate un like, condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo al prossimo video.